Se vi piace, magari ci faccio anche una serie Se vi può piacere, ovviamente, fatemi sapere, come sempre Nuovo gioco Ah, nuovo gioco, sì Loading Io l'ho messo in inglese, cioè in italiano, però In anteprima Che esce il 14, mi sembra Quindi non so se sia una demo, eventualmente sarà una demo, non lo so Tanto fatemi disattivare sto botta musica Allora Ok, con la S vado indietro Con la B Eh, ma sto menu non si può togliere Ok, F Ok Baguette, ordine, facciamo un paio di ordini Mentre Ok Ho fatto un paio di ordini, spero mi arrivano Allora Ah, qua abbiamo due PC Sì, sì Gioco lo trovate anche su Steam, in demo Ovviamente, chiudi i negozi Lo posso anche chiudere? Oh, bello Apri negozio Finanza Ah, c'ho 0 euro Ok, benissimo Ingredienti Eppure qua c'ho 500 euro, dice Ok, posso comprare la farina Diciamo che compriamo già la farina Posso comprare anche un po' di zucchero Così non Non stiamo mai senza Lievito Ok Ok, per il momento Attrezzature Direi che ci compriamo un forno Assolutamente E un stampo per dolci Ok Ok Uscita Ok, dove me Dove me lo Dove me lo E non arrivano? Può essere Magari devo far passare un'altra giornata? Non lo so Stipendio Orario Ok, abbiamo uno stipendio di 20 dollari Vabbè Se lo dice lui E Indietro Boh Quanto pare Però i clienti non entrano Bark Ma tipo Non si può uscire Che ne so Dal negozio Per vedere F Vai a casa Salve Buon uomo Buon uomo Tutto bene? No Non sta bene Vediamo Baguette Ordina Attrezzature mancante Ok Ho capito Attrezzature mancante Cioè non ho capito niente Però va bene Uguale Allora Ok Vediamo Proviamo la finanza Però sto messo male Con i soldi Quindi Ok Attrezzature Proviamo a prendere anche Questo il mio canale Vabbè No, non voglio No, no, no Non mettere nulla Uscita Vai Vai Vedetevi il mio canale YouTube Ciao guerriera Benvenuta TV molto 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 Plasmotico Ci sta Ci sta Allora Però io tipo Continuo a non capire Ah, questa è la pistola Ingredienti insufficienti Ok Questa è la pistola Tipo per I prezzi Ok Qua c'è un Cosino Però Attrezzatura mancante Non è l'attrezzatura Richiesta Ingredienti Ah Ok Forse comincio a capire Ragazzi Forse comincio a capire Ingredienti Farina, lievit, olio Ok Devo comprare La farina Da quello che sto cercando di capire Ingredienti Farina Ok Zucchero Lievito E anche il burro Mi sembra E burro È tipo un cooking simulator E l'olio Ok Olio Ok L'ho comprato un bel po' E lo zucchero E lo zucchero Non acquisto ancora un po' Eh non ho soldi Ok Ok Adesso che ho finito i soldi Vediamo Ordina Non hai attrezzatura Cosa mi manca ancora? Forno Mi manca il forno Ma io non l'avevo comprato il forno O mi sbaglio? È impastatrice Anche l'impastatrice L'avevo preso Quindi proviamo a fare Il secondo Niente Mi pare Li schiaccio tutti No Schiacciandoli tutti Mi sa che baggo il gioco Ma Questi sono piccoli dettagli Comunque le 8 e mezzo Se si va su farming Ne uova Le due uova Eh due ne ho Cioè Mi dissocio Mi dissocio Questa era pessima Vero? Allora Niente A quanto pare Proviamo a far passare Un'altra giornata Che chissà Che magari Dormendo Infatti Dormendo Bella la traduzione Cioè Molto Vabbè Molto Vabbè Proviamo ad andare a dormire Che magari Mi da 20 euro Con 20 dollari Caricaggio Ah Ma posso anche salvare Quindi Ok Salva la partita Per andare il giorno dopo Ok Proviamo un attimo A rivederlo No ma carino E carino Carino E carino A me piace Allora Quindi Prima di comprare Inutilmente Devo guardare Qua giustamente Qua giustamente No Allora E forno E impastatrice Ok Compriamo un forno Compriamo un forno Attrezzatura Porno Acquista Acquista Ok Uscita Poi Ogni volta Solo fare avanti e indietro Il lievito Lievito Ok Lievito Ingredienti Quindi Lievito 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 Acquista Ok Poi Però non ti dice i grammi Non ti dice i grammi Mi sembra Quanto ho capito Dove Forse magari con L'aggiornamento Ok Farina E olio Ok Farina Ingredienti Farina 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 Falina E olio Poi cosa mi manca Che in teoria Non mi dovrebbe mancare nulla Ah si Vabbè Tutorial Vabbè Non è magari Non è un problema Comunque Magari mi da un po' Una mano anche E Attrezzature Forno Impastatrice Se io faccio ordina Cosa mi manca ancora Perché ho preso La farina L'ho presa L'olio L'ho preso Il lievito Mi sembra anche E l'impastatrice Mi manca Ok L'impastatrice Ok Attrezzatura Impastatrice Impastatrice Ma dove la trovo L'impastatrice Macchina per la pasta Rullo Stampante Per dolci Macchina Per Cashbarac Attrezzatura Di farina Stampante Ah Stampo Ho letto Stampante Salve Ciao guerriera Salve Stampante Per mattoni Eeeh 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 Macchina del caffè Eeeh 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 Allora Macchina per il gelato Scaffale Posso comprare anche Oh bello Molto bello Rullo per impastare Ma non credo sia questo Rullo per impastare Cioè Macchina per la pasta Rullo per impastare Gramma Croom Sia Rullo per impastare Macchina per la pasta Voi che dite ragazzi Cioè Non so Se è rullo per la pasta Effettivamente Non Non lo spiega Cioè Boh Intanto io mi riattivo Il bot music Cioè Non lo spiega Macchina per la pasta Non credo E rullo Ah Rullo Quindi Dici che sia questo Nel dubbio Vediamo Se me lo fa fare Allora Vediamo No Manca l'attrezzatura Forno Impastatrice Ma il forno L'ho presa L'ho preso Attrezzature Forno L'ho preso Per mescolare Che sia questo Ho il mixer Allora Utilizzo per mescolare I requisiti Cioè Per fare l'impasto Penso Per fare la pasta Proviamo Vediamo Se me lo fa fare Oppure devo saltare Appunto Per l'appunto Un'altra giornata Ok Vediamo No Allora mi sa che Quello che ho detto io Ecco però Mi sa che con i soldi Non ce la facciamo Ma tipo Se io lo volessi Vendere la roba Non posso Non posso Ma alla fine Mi ho La macchina Per la pasta Usato Per fare La pasta Ma io devo fare Il pane Io pensavo Questo Ma questo Già l'avevo preso Quindi Eh Usato Per fare La pasta Scendo Usato Per fare La Per fare La pasta Usato Usato Per fare Le torte Usato Per fare Le torte Usato Per fare Cioccolato Usato Per fare Nella pasta Usato Per fare Cosini Utilizzato Utilizzato Per fare Con cioccolata Service Caffè I clienti Aspettano Più Ah Posso Acquistare Anche Questo Ma sai Che Non Non lo so Perché Non credo Che ci sia Un tutorial In giro Cioè Usato Usato Per fare Torte Ok Noi non dobbiamo Fare le torte Per adesso E quindi Ce lo mettiamo Via Utilizzato Per fare La pasta Utilizzo Lo Lanter Boh Certo 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 che L'italiano È molto 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 Scorregiuto Utilizzato Per fare La pasta Utilizzato Per Misceliare I requisiti Bah Eh perché Non ce ne lo faccio Con i soldi Torte Torte Cioccolato Cioccolato C'ho Scascascascas Nelle impostazioni Dici impostazioni Nelle impostazioni Non c'è nulla Di che Cioè Ho guardato Anch'io Non C'è nulla Ah Non c'è nulla Di che Nelle impostazioni Macchinario Per Impasto Ah è quello Che costa 250 euro Che Forse Ho capito Forse Allora Vediamo Eh infatti no qua ho sbagliato intanto fammi andare qua è questo qua ma come faccio io adesso a rivendere la roba che ho comprato cioè se io non perché voglio raccomularmi almeno un 100 euro tipo vorrei vendere questo e come fo vediamo negozio non mi fa cliccare niente devo rifare si mi sa che purtroppo gioco intanto lo chiediamo al negozio che magari tanto non lo chiediamo vabbè lo rifaccio allora abbandona gioco però è un peccato si è un peccato simona veramente un peccato che non ti fa vendere le cose che non utilizzi allora allora abbiamo detto quello da 250 lo acquistiamo già subito così non ci perdiamo in chiacchiere quindi adesso fatemi ricordare un attimino gli ingredienti farina lievito olio ok farina 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 e olio e lievito farina olio e lievito 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 eccolo va ok adesso dovrei essere a posto allora ordina no ah manca il forno manca il forno manca il forno caspita attrezzature forno ok adesso in teoria non mi dovrebbe mancare niente ciao caiman benvenuto ordine oh alleluia ce l'abbiamo fatta il tipo la ci lavora per noi ma è così buongiorno signore ciao lupen benvenuto come stai vadi vadi impasti signore dottore vadi vadi allora f per le f ah ma non posso più utilizzarlo ok ok vai e dove lo metto lo metto qua o a posso prenderne anche una tipo metterla qua bello carinissimo sto gioco bellissimo prendi prende aspetta prendi tener simulatore infatti lavoro da chef bravo giopi allora usa prendi ah ok comincio a capire però forse no forse si ah ok con il mouse ma io mi dissocio allora ah ok forse ok fa un rumore strano salve signore buongiorno arrivo e dammi un attimo lei è il mio primo cliente mi dica cosa vuole baguette si ne ho finchè vuole guardi allora tenga come come lo faccio come glielo do arrivederci eh grazie buona giornata signore dottore ok comincio a capire forse intanto io questo nel dubbio lo preparo già qui cominci comincio a capire come glielo do e poi te lo dico allora poi ti mando un messaggio che ho scritto con come glielo do ok prendi ah ok 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 si buongiorno arrivo un attimo dottore allora baguette si ne ho ne ho ehm vadi arrivederci eh grazie poi te lo do eh si mi sto dando le baguette eh mi sto dando le baguette adesso aspetto l'ultimo cliente poi chiudo il negozio che mi vado a fare gli altri panini ok quindi in teoria anzi lo posso già fare ok lo posso già fare ottimo 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 signor gioco incomincio a capirti allora qua eh tipo se io adesso volessi ricopiare un attimino questo quindi devo fare no ho sbagliato come sempre tasto giocare si buon uomo dammi un attimo gli sto facendo vedere il mio canale eh così gli faccio un po' di pubblicità allora si mi dica eh panino panino grigio non ce l'ho mi dispiace deve tornare deve tornare più tardi non non ce l'ho non ce l'ho ciao Pietro eh breaking simulator è un gioco di cucina benvenuto benvenuto Pietro allora lo metto qua eh ancora in in rilascio eh allora ordina ok deve aspettare un attimino eh dottore eh se vuole prendersi un caffè nel frattempo se si vuole guardare un mio video non so faccia un po' lei vedi un po' lei insomma ah no niente proprio eh ho perso un cliente eh io non ero pronto eh il gioco della pizza in teoria fa dolci questo non pizze teoricamente ce lo devo ancora scoprire però vabbè man mano lo vedremo lo vedremo se vi piace ragazzi vi faccio una serie tra un po' vi faccio anche la ruota che è arrivato il momento anche della ruota allora ehm allora eh allora ogni volta questi tasti però è un casino F prendi il cosino e mettilo qua su ok eh ok ogni volta che sento sto suono mi vengono in mente le mie orecchie povere orecchie allora F prendi il cosino si mi dia un attimo dottore dottore mi dia un attimo allora ehm cosa vuole ehm cosa vuole panino in teoria dovrebbe essere questo vediamo allora calmo stia calmo che mi gira il cosino eh mi gira il cosino certo è un po' complicato ma bello a me piacciono questi giochini qua ma non l'ho fatto io il panino grigio ehm boh nel dubbio andiamo a farlo panino panino grigio eccolo qua ordina vai 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 dottore ehm allora intanto te ti metto qua eh dottore devi tornare dopo eh perché sto facendo il panino grigio cioè deve tornare più tardi ehm sono un po' corto di personale allora ah ma il tempo quello in alto che per fare il panino ahia intanto mi sono dato una volta il microfono spero non si è sentita ma mentre spero di no vabbè ehm grazie si può mettere riposo buongiorno buon uomo allora allora questo ti sposto ti metto qua sopra va di qua sopra e dammi anche te che ti metto anche qua allora questo il pane bruciato diciamo panino panino nero e ehm ok io sto andando in botta ehm si mi dica buon uomo si mi dica panino grigio si vuole questo che non è incartato allora ehm allora mi dio un attimo buon uomo come faccio a incartarglielo che non mi fa ehm ok e usa ok eccolo eccolo buon uomo buongiorno è bentornato ehm ok vai 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 vadi vadi arrivederci grazie eh buona giornata dottore ehm è un po' un po' è un po' fatto sto gioco ma è adatto per i fatti tipo me allora intanto ti faccio un altro ordine di cosino allora intanto a te ti metto qua ok a te dammi il cosino qui che te lo metto qui ehm no allora ogni volta questi tasti ok sì tutti dolorosi sono eh sì però a me piacciono già a me gusta a me gusta la allora sì un attimo dottore dammi un attimo mi dica eh baguette sì ne ho eh non so se questo aspetta eh perché potevano scriverci sopra il nome che cos'era no non è questo è questa ah non l'ha presa niente tutto a posto arrivederci poi la ruota ora sì tra le otto e mezza ehm intanto ti faccio un po' di ordini ti ordino anche la torta vadi vadi impasti dottore ehm beh bello 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 l'importante è che si possa salvare così per la prossima volta riprendiamo dove siamo ritornati no quello è la cosa più importante ok ehm vediamo chi è non c'è nessuno tt mi dica ah intanto impanchetto il pane potevano sì un attimo allora lo impanchetto dopo mi dica ehm baguette di pane italiano ehm non l'ho al momento ehm non ne ho sa deve tornare dopo perché non non ne ho ehm non ne ho la faccio fare qua al tipo ehm baguette di pane di pane italiano vai ordina vai vai facci facci si sbrighi non cincischi ehm io sto andando in botta ehm allora eh usa non so se questo se per caso è questa vediamo ehm no non è questa eh niente deve tornare dopo mi spiace arrivederci eh arrivederci grazie baci abbracci mi saluti casa ehm non so cosa sto dicendo però una cosa lo sto dicendo sì un attimo chi è? ah no è lui ma che cavolo suoni tu? allora allora prendi vai così ehm F vai vai allora forza forza tutti i pane sì tutti no mi dissocio allora carino sto gioco comunque ve lo consiglio se volete esaurire ragazzi questo gioco fa posto per voi ehm vai mettiamo in ordine ehm allora no grazie buone le baguette ya ehm baguette di pane italiano ah ma te lo dici allora se ci clicchi qua sopra da notare che intanto è sparito il tutorial in alto vabbè ehm ehm allora ehm allora con calma ehm F ok ricordatemi la F si buono morivo pane francese vediamo se ne ho da parte non so se questo non so ah ok ce l'ho ce l'ho vedi arrivederci eh grazie ehm allora andiamo calmi mi dia il cosino ok eh F ok lo sta imparando lo sta imparando eh lo sta imparando lo sta imparando allora è così dammi la F io avrei preferito comunque tipo una busta di plastica che non la scatola ma comunque questi sono dettagli ah posso metterne anche uno sopra l'altro perfetto ottimo donne è arrivato la rotina no è arrivato qualcuno chi è? mi dica pane grigio si un attimo che prendo il mio cosino qui da misurare se non ne ho si ne ho ancora uno ne ho eh arrivederci molto bella la modellazione si da esaurimento allora ordina ma io prima o poi li finirò sti ingredienti no è quello che mi domando sono infiniti boh saranno infiniti si poggetti qua eh eh ok secondo me sono infiniti i ingredienti ma vabbè dettagli non vorrei dire ma non lo diciamo nessuno allora ok è tre ore che sto facendo pane ok si chi è? buongiorno buon omo mi dica baguette non so se ne ho ancora in caso torri dopo eh sto eh se mi da un minuto gliela incarto eh mi dia un attimo buon omo ah eh sì eh ha ragione perché ormai eh 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 ok dammi un attimo datemi un attimo chat f ok è un po' baguoso sto gioco comunque vabbè eh arrivederci eh grazie buona giornata qualcuno vuole del pane? buona giornata